Arriva nella sala operatoria dell'ospedale San Carlo di Nensì di Roma un nuovo robot che supporta il chirurgo nell'impianto di protesi del ginocchio. È il sistema Navio. A spiegarne all'agenzia di stampa dire i vantaggi sia per il paziente che per il chirurgo è Mario Tartarone, direttore del dipartimento di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Capitolino. Il sistema robotico Navio per i vantaggi reali per il paziente sono innanzitutto un minor dolore post-operatorio. Proprio per la precisione che ci consente di avere questo macchinario nelle nostre mani riusciamo a eseguire degli accessi più piccoli, quindi con minor dolore post-operatorio, con tempi di ripresa più rapidi e anche con tempi di ospedalizzazione ridotti. Per quanto riguarda il paziente l'altro indubbio vantaggio è quello di, riuscendo ad essere più precisi nel posizionamento delle componenti protesiche, di garantire al paziente stesso una maggior durata nel tempo dell'impianto che noi andremo a posizionare. E' chiaro che la riabilitazione svolge ancora oggi e svolgerà sempre un ruolo fondamentale, è fondamentale che la riabilitazione inizi sin dal giorno dopo l'intervento, il paziente quindi riprende le sue attività della vita quotidiana, viene messo in piedi, mediamente in 48 ore a casa e proseguirà un programma riabilitativo specifico che noi forniamo al paziente stesso. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it